Siete addetti alle campane ragazzi, vai Angela vai, attenzione l'amico sotto, la campana, vai, gli addetti alle campane, vai, vai, forte ragazzi vai, e poi, ma c'è riuscito a fare una campana? Ma questi due qua non ce la fanno, ragazzi, non li vedo molto atletici, qua siamo in altissima montagna, vai Angela, in giovani, hai capito? Ehi, vai, vai, ok, vai, 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 vai Angela Vai, le orecchie Vado, che botta Vado, che botta Vado, 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 vado Vado, 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 v